Secondo me non si apre Io te lo dico Ma come fa ad essere chiusa scusate Cerchiamo di sbirciare Cosa si vede Io ci provo Oh mamma mia Dai vai La tessera Scusa E ragazzi come va Io sono Ferenichi E sono Stef E che se oggi mi chiamo Hello Negbo E siamo tornati qua prontissimi A cercare di svelare Più segreti possibili Del nostro malefico vicino Secondo me possiamo puntare A finire questo secondo aggiornamento oggi Non voglio dirlo Perché non lo so Tiriamo le mani avanti Non si sa Però noi ci proviamo Perché mi sembra Che siamo a buon punto Allora i consolini Ci hanno dato un po' di consigli Che piano piano ti dirò In ogni caso Ovviamente il gioco non salva Quindi ci siamo dovuti riprendere Tutte le cose E guardate che altro c'era in cucina C'era il grimaldello Teoricamente lo possiamo utilizzare Per aprire questa casettina Allora controlla dov'è quel matto Non lo so Non so minimamente dov'è Speriamo non arrivi Mentre stiamo aprendo Uh andata andata Ecco il fucile È andata Però ce l'ha rotto Sì Dannazione Ci ha rotto il grimaldello L'aprirlo E secondo me adesso Ci ha richiuso quella porta Quindi il grimaldello È proprio un monouso Usa e getta Della serie esatto Lo usi Rimasta aperto Rimasta aperto Meno male È un tontolone Non la richiude Quindi meglio per noi Secondo me c'è già rivisti Quindi entro veloce Prendo il fucile Vieni qua vicino Adesso cos'è Questo non ci serve Perché ci abbiamo già Non c'è altro Vicino Controllati bene Controllati bene No A posto A posto Vicino Dove sei Abbiamo un gioco da fare Ops No non lanciarlo Non lanciarlo Non lanciarlo Chiedo a perdona Bang bang Hai visto? Sì Funziona per davvero Disgraziato Adesso cos'è che fai? Il tuo latte non serve più a nulla Contro L'ho lanciato per sbaglio Certo che se lo lanci per sbaglio Vince lui lo stesso Confondità Sì Non è colpa mia Allora Torniamo a serie Concentrazione un attimino Dobbiamo fare le cose serie adesso Il problema È che non abbiamo ancora rimesso Le sue belle pillolotte Nel latte Perché ovviamente Il gioco è stato Resetato Perché non possiamo salvare Quindi quello dobbiamo rifarlo E non è proprio la cosa più semplice Del mondo da rifare ogni volta Eh lo so Lo so Perché sei tornato? Mamma mia mi ha fatto spaventare Ma sei matto Ti ricordi il disegno Della prima versione del gioco Dove c'era il pupazzo Il fuoco Uguale chiave? Sì quello che non siamo riusciti a fare Mettendolo nella caldaia E se ti dicessi che vale per questa casa E che nella caldaia dove lui dorme Puoi mettere un pupazzo Che stava al secondo piano E allora ci danno la chiave Ma davvero sono collegate queste cose? Non lo so Potrebbero prenderci in giro Quindi Io Ci proviamo Ho sempre paura che ci troglino malissime No 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 Avrebbe senso Avrebbe senso Avrebbe senso Perché comunque gli sviluppatori Lo stanno migliorando E quindi può aver senso Che tengano qualcosa Della vecchia versione Anche secondo me C'è un senso logico E qui la zona segreta Così mi sta impazzendo tutto di nuovo Vedi che queste sono le scale Hai capito? Le scale chiuse Che noi vediamo dal piano di sopra Sono qua Ok Vedi? Ok E questo è infatti il pupazzo Che noi dobbiamo prendere adesso E mettere E perché è chiusa? Perché secondo me Non voleva far vedere il secondo piano O questo presentimento E noi ci siamo saliti dal tetto infatti E infatti Comunque quella porta Questa l'aprico la sua chiave Non l'aprico Ah hai ragione Hai notato che La chiave è uguale a Lucchetto È vero Noi quindi dobbiamo venire qua Col pupazzo Esatto Mettere il pupazzo lì dentro E teoricamente ci darà una chiave Gestiamoci d'obiettivi Ok Pillole nel latte Fondamentale Dobbiamo assolutamente farlo Perché altrimenti Non possiamo utilizzare La nostra calamita Per prendere le chiavi da lui Esatto E quindi aprire quella porta Che è quella che mi incuriosisce di più Sai che Sì stiamo complotando contro di te Anche se ci guardi così E adesso ti spariamo pure Ok Quindi vattene Sembrava proprio fermo lì Ad ascoltare Della serie Ma che stai a dire Sì stiamo complotando Si sta preparando Ha capito Che inizia la sua E poi se ti ricordi Anche in casa nostra C'è una porta chiusa Io non vorrei dire Sì è vero Non sappiamo se possiamo Riuscire ad aprire anche quella In effetti Quello non lo puoi sapere Non lo puoi sapere In effetti Vai Vai bravissimo Bravissimo Yeah Dobbiamo riuscire il latte radioattivo Proprio sono andato dritto per dritto Questa volta E questa cosa è fatta Eh bisogna essere impavidi Ancora mi sugge Come portare il vicino a berla Quell'atte Comunque vedi la testera E poi i chiodi E poi i chiodi Ok ok Allora è più semplice del previsto No 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 scusaci 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 Ce ne andiamo subito Cioè stiamo davvero riuscendo a sopravvivere? Cioè davvero è fanta No ma c'è il fucile davvero È necessario al 100% È bellissimo Per sopravvivere Quindi Il quadro lo puoi togliere Il corvo lo posso sparare? No Questo quadro si può levare? Sì Perché c'è qualcosa di Ah no è solo un buco Non lo so Mi sembrava ci fosse qualcosa di strano Ti sembrava particolare Sì esatto Ho capito Ho capito Allora siamo venuti qua per il pupazzo Il pupazzo Sì Quindi veniamo qua Prendiamo il pupazzo Succede qualcosa Nel mentre Il nostro bellissimo sacchiatto Cos'è questo? No sono i pallini del fucile secondo me Ah hai ragione Entro Chiudo la porta Metto il pupazzo Vai 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 Come non si può? No non mi farei questo scherzo eh Ragazzi Allora aspetta Sì Prova ad aprirla Come però? Ti può aprire dallo sportello? No non Vedi? Secondo me non possiamo fare la sacca del pupazzo Vici peccato Secondo me no Secondo me no Quindi adesso dobbiamo trovare Un modo Ok senti un attimino a me Dobbiamo trovare un modo di farli bere questo latte Perché abbiamo bisogno che dorma Altrimenti non possiamo aprire quella porta E non possiamo prendere l'attrezzo che ci permette di aprire i chiodi della porta exit e finalmente finire Capito? Eh sì sì Però come gli facciamo bere questo latte? Io continuo a non capire Questa cosa non gli trovo un senso Cioè dobbiamo aspettare un po' di tempo Dobbiamo Non lo so Non lo so neanch'io Non Non ho capito sinceramente Non lo so Accendiamo la tv col telecomando e mettiamo una pubblicità di latte Così gli viene voglia di berlo Bella idea questa E se lo beve Ti piace? Bella idea bellissima Grazie Sì sì Vai 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 Vado Io ci provo Oh mamma mia Trattieni il respiro pure E tu sei a posto E tu sei a posto Contando che non andava a dormire Mi sembra il modo più giusto di provare a prenderlo Perché in effetti non ci calcola quando fa jogging È talmente pronto Esatto Concentrato nel suo fitness che non Ci pensa troppo a fare quelle fitness E non pensava più alla chiave Quindi altro che farlo dormire Bastava fare così Allora Adesso Concentrati siamo nel momento più importante Esatto Dobbiamo riuscire ad andare nella sua bella stanzina E vedere che cosa c'è Allora Non ci ha visti Dove sei? Però non ho capito se si stava mettendo a dormire Ok O che cosa Noi però sinceramente È notato che Ok Siamo entrati Cosa ci serviva qua? Questo 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 assolutamente Cosa c'è? Controlla Tipo questo che cos'è? Un letto Adesso ho detto che era un letto d'ospedale Avevo ragione È un letto d'ospedale davvero Avevi ragione La cassetta degli attrezzi serve a qualcosa? Non credo Non credo Lascia perdere Quello ci serve per i chiudi di sicuro Quindi prendiamo quello che ci serve E vattene Tutto a posto Tutto a posto E vabbè Ogni tanto ci becca Però non succede nulla Allora Quindi Adesso che abbiamo questo Sinceramente questa roba qua Non ci serve più Quindi noi ce lo lasciamo in casa Nel caso in cui ci serve per qualcos'altro Esatto Esatto Però lo teniamo qui così Buongiorno Corvo Come sta? È da un po' che non ci vediamo Tutto bene? Siamo tornati a fare le compagnie Guarda Tolgo i chiodi Tolgo i chiodi Apro la porta Ah hai ragione Hai ragione Sì Scusami Sono io che ho il senso di rentamento di una tartaruga Quindi O di un pesce O di un pesce No i pesci forse si rentano meglio di quanto mi renti io Sinceramente Non li vorrei offendere Sai com'è Sei com'è Allora Siamo pronti Siamo pronti Sì 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 Corvo non ci rivedremo mai più Stiamo andando a vedere cosa c'è in quella bellissima porta Sei molto carino Però sei un po' fastidioso E a scoprire tutti i misteri Io provo ad entrare Ok Male che vada Eh però Eh però Allora Ascolta Abbiamo finito ormai Lasciaci finire in santa pace Che così vediamo cosa c'è in quella casettina In quella portina Che siamo Un po' curiosi Già da due episodi Spero che ci sia qualcosa Questa volta speri in qualcosa Perché allora nella scorsa versione ci ricordiamo tutti Che praticamente partiva l'animazione E tu venivi chiuso in quella specie di tomba Da vicino E finiva E finiva così Io spero che ci sia qualcosa da esplorare Perché rimarrei un po' delusa se ci fosse diciamo un'altra fine così brutta Che tu vieni chiuso da una parte Quindi diciamo che sei ucciso dal vicino No sarebbe un po' deludente Però adesso sono attrezzato Quindi ci spero davvero tanto Guarda come sono concentrato con le cuffie Vai Perché devo sentire tutti i suoni Capire dov'è Allora Guardalo Sì lo vedo Ok Ok secondo me è uscito da quella stanza Veloci Ok Mi sembra che sia in cucina Ok Va dormendo malissimo Probabilmente ha bevuto il latte Eh adesso sì Eh ma ci becca secondo te? Non lo so Adesso è andato in cucina Perché lo svegliamo Lo svegliamo sempre Vai vai Veloce Dai La tessera Scusa? Oh Che cos'è? C'è qualcosa? Che? È troppo inquietante Il pupazzo Ok Il manichino Oh mamma mia Fa venire i privi C'è una musica strana Qua c'è una tazza Candele C'è una porta Allora aspetta Non c'è altro giusto? Ok Credo di no Vado Vai Vado No Ti fregano Ti fregano sempre Ti fregano sempre Però almeno stavolta Ho iniziato a mettere qualcosina Quindi vuol dire che svilupperanno Anche la stanza Della porta segreta Aspetta Facciamo il punto della situazione un attimo Ok A questo punto Tutti i misteri e le cose strane Della casa precedente Torneranno O le avevano messi giusto per No perché io ci sono un sacco di cose Che non mi ero spiegato E che mi incuriosivano Tipo La mela dorata Esatto Il pupazzo Che appunto c'era lo schimino Di metterlo a bruciare Io non so se le terranno ste cose E il trenino Cioè anche il trenino Che girava Non abbiamo mai capito L'utilità Il trenino è bellissimo Non abbiamo mai scoperto A cosa serviva O come sfruttarlo Quindi vorrei capire un pochettino E poi comunque ti ricordo Che dalla porta Si era vista un'autostrada Che uscivano le macchine Esatto 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 Sembrava proprio Un ingresso a un altro mondo Quindi non capisco come Poi anche in questa versione Ad esempio Tutta quella cosa Che lui aveva fatto Con i manichini Quello di sotterrarli Il fatto che i manichini Si muovevano E dovevi metterli Al posto dell'insegnante Cioè sembrava una sorta di scuola Che lui aveva creato Invece in questa versione Si è un po' persa Quindi non so se tornerà Anche questo Perché c'erano davvero Tante cose risolte Comunque stavolta Penso che siamo riusciti A fare tutto Ci mancava solo la porta In casa nostra La porta in casa nostra Che non so se col Grimaldello Si potrebbe aprire Possiamo provarci al volo Si Vediamo Vediamo se fa Un tentativo per cercare Di provare tutto Esatto Vediamo se diciamo la prima Così finiamo al completo 100% Va bene Grazie mille vicino Per questo Grimaldello Lo usiamo un attimino E poi torniamo da lei Va bene? Si Le lo riportiamo Aspetta che chiudo bene Ok così non prende freddo Guardate come ho suonato la finestra Con la cosa per tagliare la lenda La l'erba E sta ancora girando E facendo un casino pazzesco In cucina Aiuto E però Vabbè è stato gentile vicino Vediamo Io spero ci sia qualcosa Secondo me no Perché rimango sempre delusa dal finale Io ti dico la verità Rimango sempre delusa Eh ma perché non è la versione finale Quindi il finale Eh l'ho capito Ma dacci qualcosa alla fine Qualcosa da fare E quello è un biscotto Ho qualche indizio Qualche indizio Che ti porti a qualcos'altro Dai Ti do questa caramella Così sei felice Tieni la caramellina E me l'ha buttata per terra Ecco Ecco Secondo me non si apre Io te lo dico Sì 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 Ah no no Un lucchè Ma poi come fare Sire chiusa scusate Cosa cerchiamo a sbirciare Cerchiamo di sbirciare Cosa si vede Ok Si sente il P Come la scorsa volta Però chiaramente non c'è nulla No non c'è nulla Ma proprio nulla nulla eh Anche perché non è chiusa Vedi che è solo appoggiata Quindi non dovrebbe Stiamo baggando malissimo il gioco Guarda il vicino correndo Hai visto Il vicino si allerta Quando noi siamo qua Però poi C'era di intondo Eh Vedi No vedi non c'è nulla È totalmente vuota È totalmente vuota Non c'è nulla Non c'è nulla Quindi è chiusa Non si sa bene perché Comunque Allora io credo Che abbiamo davvero fatto tutto Quello che c'era per questa versione Speriamo di vederne Una prossima versione A breve Perché è troppo divertente Questo gioco Ogni volta riesce comunque A metterti curiosità Per lo meno Quello sì Ha abbandonato tante cose La prima versione Però è riuscita a incuriosire Di nuovo con tante altre E a sto punto mi chiedo Chissà dove vogliono andare a parare Come sarà la versione finale Cioè Se appunto Terranno dei misteri Oppure Faranno una cosa Totalmente diversa Perché a questo punto Contando che cambiano così tanto È anche probabile Che poi Il gioco finale Sarà totalmente diverso Sono molto incuriosita Quello sì Anche io Comunque ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuto E speriamo di riportare questo gioco Con nuove versioni Il prima possibile Beh ragazzi Non ci riesci così Se vi è piaciuto Ascettateci un like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao